Io do il benvenuto a Virginia Raggi, Sindaco di Roma dal 2016 e, presumibilmente, prossima candidata al Sindaco di Roma nel 2021. Ho capito bene, Sindaca? Ma veramente questo è un tema sul quale non mi sono ancora espressa, non ho sciolto alcuna riserva, come sapete molti cittadini me l'hanno chiesto, ma questo è il momento della responsabilità, bisogna continuare a lavorare, come avete ben detto voi durante tutte le vostre trasmissioni. Lo avete ricordato anche adesso con questo servizio di lancio del Tg, in realtà siamo ancora in piena crisi per quanto riguarda la crisi economica e la crisi sociale, quindi questo è il momento di continuare a lavorare a testa bassa. Le poltrone non sono, secondo me, un argomento che deve essere toccato adesso. Senta, sai perché glielo chiedevo? Perché ho letto che ieri ha incontrato Beppe Grillo e pare che il tema dell'incontro sia stata anche la sua ricandidatura, non è così? No, non c'è stato nessun incontro, io e Beppe ci sentiamo spesso, ma sicuramente, ripeto, non è questo il tema di cui parliamo. Abbiamo un paese che, mi permetta di dire, si è comunque comportato molto bene durante tutta la fase di lockdown e durante la riapertura, ma abbiamo un paese in ginocchio, come è in ginocchio ormai le polizioni a un po' di tutto il mondo. Quindi, se ho capito bene, possiamo smentire la notizia che è circolata. Lei non ha visto ieri Beppe Grillo a Roma, la smentiamo? Perfetto, benissimo. Rimanga con me.